Professor Becchetti, l'economia civile, possiamo dire che si può dividere in prima della prima edizione del Festival dell'economia civile e dopo questa prima edizione che c'è stata qualche mese fa e che ha rilanciato questa tematica? Il Festival è stato un momento molto importante perché ha reso visibile una comunità di persone unita da una stessa visione ideale che sta lavorando sui territori e anche nelle amministrazioni pubbliche per far avanzare questa età dell'economia civile che fondamentalmente vuol dire creazione di valore economico sostenibile che punta a un obiettivo molto alto che è quello ambizioso, che è quello della generatività e della soddisfazione di vita dei cittadini. Quanto tempo abbiamo davanti prima che questo modello prenda piedi in modo più importante? Soprattutto abbiamo abbastanza tempo? Lo sta facendo gradualmente, penso che in finanza ci sono stati dei passi avanti molto importanti, quest'anno il Salone del Risparmio era sul tema della sostenibilità, i fondi etici stanno crescendo tantissimo, stanno diventando mainstream. Il problema di quanto veloci dobbiamo essere questo è difficile da stabilire, non sappiamo il problema del clima che urgenza avrà nei prossimi mesi, anche se sappiamo che è urgente, ma anche il problema del sociale è molto urgente e anche più difficile da risolvere da un certo punto di vista. Un'ultima domanda più politica, sono appena state le elezioni europee, c'è un governo che fatica a ingranare, mettiamola così, cosa si aspetta e quanto si può riuscire a incidere oggi anche sui decisori politici? Ma senz'altro lo si può fare, noi abbiamo in programma adesso un percorso proprio con gli amministratori, con molti amministratori locali, a livello locale c'è un grande fermento, le liste civiche, le liste bene comune che sono nate quasi spontaneamente senza coordinamento in diverse parti d'Italia hanno vinto le elezioni e quindi dobbiamo ripartire da questo perché l'obiettivo ambizioso è una politica che non guardi alla paura e al rancore ma si ponga il traguardo della soddisfazione di vita e della generatività dei cittadini. che passa per l'economia civile.